A causa di un problema tecnico il video della mia relazione sul mito di Don Giovanni si è interrotto improvvisamente. Lo riprendo, le ultime cose che stavo dicendo erano relative a concludere il discorso sulla letteratura. Gli ultimi due titoli che cito sono quelli della dannazione di Don Giovanni di Arturo Graf del 1905 e il troppo umano di George Bernard Shaw che nella prima parte si occupa, come il titolo suggerisce, della filosofia di Nice e nel terzo atto introduce sia la figura di Don Giovanni che quella del demonio che ha un celebre monologo, prova da dominare per tutti i grandi mattatori del palcoscenico. E passo finalmente alla sezione musicale. Prendendo le mosse dal Settecento, ho già parlato di Richard Strauss a proposito di Lenau e del suo Don Giovanni, e quindi ometto di parlare del poema sinfonico del compositore tedesco. Parlo del primo Don Giovanni di un certo pregio che è il balletto di Christoph Willibald Gluck, Don Juan, che fu composto nel 1861, ebbe la coreografia del celebre danzatore Nover, che era un novatore della danza all'epoca, e il programma fu steso da quella Ranieri di Calzavigi, che avrebbe poi prodotto il libretto per Orfeu e Leuridice, l'opera con la quale inizia la celebre riforma del teatro musicale di Gluck. Ma senz'altro il Settecento è dominato da quello che forse è il più grande, Don Giovanni in senso assoluto, quello di Wolfgang Amadeus Mozart, scritto sul libretto in italiano di Lorenzo da Ponti, di Ponte, secondo esempio della trilogia che nasce in collaborazione tra i due, la prima opera è Nozze di Figaro, secondo Don Giovanni, terza così fan tutte. Don Giovanni, ossia il dissoluto punito, va in scena non a Vienna, ma nell'altra capitale dell'impero asburgico, Praga, il 29 ottobre del 1787. Era stato preceduto di pochi mesi da un altro Don Giovanni sul libretto di Bertati, andato in scena a Venezia. Bertati era uno dei grandi rivali di da Ponte in quel momento, e la musica era stata scritta da Gazzaniga, da Giovanni Gazzaniga, e c'è da dire che da Ponte sicuramente nello stendere il suo libretto guarda a quel modello. Non potendo fare esempi musicali, leggerò i brani più interessanti del libretto, esemplificativi di quella leggerezza e di quell'ironia che dominano quest'opera, che è un'opera giocosa anche se, come diremo, si apre con un omicidio e finisce con la morte del protagonista, quindi mescola sia la commedia che il dramma. Ma c'è da dire della fortissima sintonia tra Mozart e da Ponte, entrambi erano sicuramente dei grandi estimatori del sesso femminile, e nelle sue memorie la batte da Ponte da ampio conto delle sue varie scorrerie amorose. E quindi c'è una unità di intenti che ha del miracoloso in queste tre opere. Il Don Giovanni dunque si apre con un ouverture che ha sicuramente un impatto all'inizio drammatico, con questi suoi accordi in modo minore perentori, ma subito dopo vediamo in scena il servitore, il Leporello, che è lì che fa da sentinella sotto il palazzo del commendatore, che nel libretto ha semplicemente questa indicazione, non ha un nome proprio, come invece nelle varie versioni letterarie di cui abbiamo detto, e sbuffa l'Epporello perché sa che Don Giovanni è dentro per cercare di conquistare Dona Anna, anzi per cercare di forzare Dona Anna, figlia del commendatore, aspettando che appunto si sia fatta notte, e il servo dice notte e giorno faticar per chi nulla sa gradir, pioggia e vento sopportar, mangiar male e mai gradir, e mai dormir. Voglio far il gentiluomo e non voglio più servir. Don Leporello è un alter ego di Don Giovanni, anche lui aspirerebbe, se potesse, ad essere altrettanto libertino, a passare di bella in bella, come fa il suo padrone, ma poi invece non manca di rimproverarlo, proprio perché secondo lui trascorre una vita sciagurata. E infatti subito vediamo una delle malefatte di Don Giovanni, sentiamo delle urla, sono quelle di Dona Anna, sentiamo che accorre, che ha riconosciuto Don Giovanni, che si vuole sottrarre, anche se non ha riconosciuto Don Giovanni, a questa violenza, in aiuto suo arriva il commendatore, suo padre, che però soccombe in duello e viene ucciso da Don Giovanni. Dona Anna, raggiunta dal suo fidanzato Don Ottavio, fa giurare all'amato che vendicherà questo atroce delitto. Tutto questo scivola addosso a Don Giovanni, che fugge con Leporello, il quale gli ricorda che sta veramente trascorrendo una vita fuori della morale, ma Don Giovanni quasi lo minaccia, anzi subito si deve curare di un'altra donna, che però questa volta è la sua moglie abbandonata Elvira, come la vede Don Giovanni, la scarica immediatamente al servo e dice a Leporello di risolvere il problema. Leporello allora canta a donna Elvira una delle aree più celebre in assoluto di tutto il melodramma, la famosa aria del catalogo, cioè fa l'elenco alla povera Elvira delle quante conquiste abbia fatto il suo padrone, quante poche speranze lei abbia di poter aver successo nel riconquistarlo, perché dice Leporello «Eh, consolatevi, non siete voi, non foste e non sarete né la prima né l'ultima». Guardate questo non piccion libro, è tutto pieno dei nomi di sue belle, ogni villa, ogni borgo, ogni paese è testimonio di sue donnesche imprese. «Madamina, il catalogo è o questo delle donne che amò il padro mio, è un catalogo e gli è che ho fatti io». Osservate, leggete con me. In Italia 640, in Lamagna 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Ispania, dove si trovano in quel momento, sono già 1.300, qui proprio speranza, non ce n'è per la povera Elvira, van tra queste contadine, camariere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesane, principesse, e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età. Nella bionda, egli ha l'usanza di lodare la gentilezza, nella brutta, la costanza, nella bianca, la dolcezza, vuol d'inverno la grassotta, vuol d'estate la magrotta, e la grande maestosa, la piccina e ogni orvezzosa, delle vecchie fa conquista, per piacer di porle in lista. Sua passione predominante è la giovin principiante. Non si picca se sia ricca, se sia brutta, se sia bella, purché porti la gonnella, voi sapete quel che fa. E qui, a bocca chiusa, Leporello fa un vocalizzo, come dire, decenza, impone che io non dica parole precise, ma tutti ha ben capito che cosa farà Don Giovanni. E Don Giovanni si sposta subito verso una festa campagnola, stanno per andare a nozze due contadinotti, Masetto e Zerlina. E anche di questa ragazza si invaghisce subito Don Giovanni. Questo coro di giovani, peraltro, è un coro che è anch'esso un imno al piacere, alla voglia di godere, di star bene. Dicono infatti, Zerlina, giovinette che fate all'amore e non lasciate che passi l'età, se nel seno vi brulica il cuore, il remedio vedetelo qua. E Masetto, giovanotti, leggeri di testa, non andate girando di qua e là, poco dura dei matti la festa. Ma per me, cominciato non ha. Il povero Masetto viene allontanato con la forza da Leporello e Don Giovanni e china la testa dicendo «Ho capito, signor, sì, chino il capo e me ne vo». E finalmente, quando Don Giovanni e Zerlina restano da soli, Don Giovanni inizia con lei un recitativo veramente straordinario, per sarcasmo e ironia, perché dice «Al fin si è liberati, Zerlinetta, giuntil di quel scioccone, che ne dite ben mio, so far pulito». E Zerlina «Signore, è mio marito». Don Giovanni «Chi colui, vi par che un onest uomo, un nobil cavaliere, come io mi vanto, possa soffrire che a quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato da un bifolcaccio vil, sia strapazzato?» Zerlina «Ma signore, io gli diedi parola di sposarlo». E Don Giovanni tal parola «Non vale un zero, voi non siete fatta per essere paesana, un'altra sorte vi procurano quegli occhietti belconcelli, quei labretti si belli, quelle di tucce candide e odorose, palmi toccar giuncata e fiutar rose». E Zerlina «Ah, non vorrei, Don Giovanni, che non vorreste?» Zerlina «Inganata a restare, io so che è raro con le donne, voi altri cavalieri, siete onesti e sinceri». E qui, con straordinaria ipocrisia, di fronte a un pubblico che lo vede mentire, un pubblico con cui probabilmente c'erano altri cavalieri e nobili come lui, dice. «È un'impostura della gente plebea. La nobiltà ha dipinta negli occhi l'onestà. Orsù, non perdiam tempo. In questo istante io vi voglio sposare». Zerlina «Voi, Don Giovanni, certo io, quel casinetto è mio, soli saremo e là, gioiello mio, ci sposeremo». «Là ci daremo la mano, la mi dirai di sì, vedi non è lontano, partiam ben mio da qui». Zerlina «Vorrei e non vorrei», dice a parte, già pronta a tradire il suo masetto. Mi tremo un po' col cuore, felice è verserei, ma può burlarmi ancora. Don Giovanni «Vieni, mio ben diletto». Zerlina «Mi fa pietà masetto, Don Giovanni, io cangerò tua sorte e Zerlina presto, non son più forte, non son più forte». E quindi vediamo che usa subito tutte le sue arti più maligne, Don Giovanni, ma sopraggiunge ancora Elvira a salvare Zerlina e salvare e impedire a Don Giovanni questa nuova conquista e a Elvira si aggiungono presto anche Don Anna e Don Ottavio. Don Anna sente la voce di Don Giovanni e riconosce chi nel buio ha cercato di farle violenza e quando resta solo con Don Ottavio dice «Ho riconosciuto l'assassino di mio padre, or sai chi l'onore rapire a me volse». Inizia così un'aria che non sfigurerebbe in un'opera drammatica per l'alta tensione che essa contiene e il suo inserimento in questa opera giocosa è un ulteriore trasalimento verso il drammatico. Or sai chi l'onore rapire a me volse chi fu il traditore e che il padre mi tolse vendetta ti chiego la chiede il tuo cuore rammenta la piaga del misero seno rimira di sangue coperto il terreno sedira in telangue d'un giusto furor. E Zerlina ascornata deve tornare dal suo mazzetto ma sa in qualche maniera a rabbonirlo come calmarlo perché gli dice batti batti o bel masetto la tua povera Zerlina starò qui come agnellina le tue botte ad aspettar lascerò straziarmi il crin e lascerò cavarmi gli occhi e le care tue manine lieta poi saprò baciare ah lo vedo non hai core pace pace o vita mia in contento ed allegria notte e di vogliamo passare e naturalmente Don Giovanni per rivedere Zerlina organizza una grande festa in cui sono tutti invitati nobili e playbay ma viene sorpreso ancora una volta dagli altri ancora una volta deve fuggire ma non si ferma e la sua nuova avventura cerca di favorirla con una serenata accompagnata dal suono della chitarra e sotto un balcone canta devieni alla finestra o mio tesoro devieni a consolare il pianto mio se neghi a me di qualche ristoro davanti agli occhi tuoi morir voglio insomma è assolutamente irrefrenabile nel suo proposito di far conquiste anche se ha appena schivato grandissimi rischi ancora una volta Zerlina deve andare a farsi perdonare da Masetto perché di nuovo è stata accolta insieme a Don Giovanni durante la festa e qui Masetto è appena stato malmenato e ha preso botte da Don Giovanni e dice alla sua fidanzata duolmi un poco questo braccio e questa mano e Zerlina con un doppio senso di cui è piena poi tutta l'aria successiva dice via via non è gran mal se il resto è sano vientene me qua a casa purché tu mi prometta ad essermi geloso io ti guarirò caro il mio sposo vedrai carino se stai buonino che me rimedio ti voglio dar è naturale non dà disgusto e lo speziale non lo sa far è un certo balsamo che porto addosso darete il posso se vuoi provare quindi tutta la malizia che è completata poi da questi versi saper vorresti dove mi sta sentilo bartere toccami qua e ovviamente si fa toccare il cuore ma tutti i pensieri più lecenziosi sono assolutamente autorizzati proseguendo avanti Don Giovanni capita in una bella notte di luna in un cimitero assieme a Don Giovanni e Leporello gli mostra la stata del comandatore che lui ha ucciso e Don Giovanni con spronatezza blasfema dice invitala a cena Leporello è terrorizzato di fronte a questa prospettiva ma Don Giovanni lo minaccia e allora Leporello invita questa statua cercando di chiedere bene che non è lui che sta facendo l'invito ma è qualcosa che gli ha imposto Don Giovanni o stata la statua gentulissima benché di marmora siete al padromingo mirate che seguità a guardare e Don Giovanni con minaccia mori no no attendete signor il padromio badate ben non io vorrei con voi cenare e la statua china la testa in segno di assenso e allora urla Leporello che cena è questa o c'è chi no la testa Don Giovanni va là che sei un buffone guardate ancora padrone con e che de giù io guardare dice Don Giovanni con la marmorea testa e fa così così e la cena viene organizzata la statua arriva con passi tremendi afferrerà per la mano Don Giovanni gli intimerà di pentirsi no che non mi pento dice Don Giovanni e quindi viene trascinato all'inferno dalla statua del commendatore la vendetta è compiuta e tutti coloro che sono stati danneggiati da Don Giovanni trovano una qualche compensazione in questo sprofondare leporello però si rammarica di essere senza padrone e pensa di andarsene all'osteria per trovare anche lui una qualche consolazione ovviamente giganteggia su tutti il Don Giovanni di Mozart quindi non credo che sia indispensabile che io vi dica che comunque anche il tritto Pacini altri compositori hanno scritto opere su Don Giovanni cito solo il convitato di Pietra di Dargominski questo compositore russo perché lo ricava dalla tragedia di Purskin modellando direttamente sulla lingua russa la sua musica ed è un esempio importante perché è considerato il primo esempio di melodramma russo originale in un momento in cui non si era ancora dominato dal melodramma italiano esportato lì da Galuppi soprattutto ma anche da altri autori e purtroppo Dargominski lasciò incompleta questa sua fatica e la partitura fu completata molti anni dopo da Nicolae Rimski e Korsakov e la prima rappresentazione avvenne posto ma soltanto nel 1872 anche la pittura si è occupata di Don Giovanni tra le varie opere cito solo quella di Ejende Lacroix il Don Giovanni in afro trovato è stato forse il massimo esponente della pittura romantica francese amico di Chopin che lo frequentava insieme a Georges Saint quando si recava al castello di Noan e dico invece che Don Giovanni in Sicilia del nostro Brancati nulla a che fare con il personaggio di cui abbiamo parlato fino adesso si parla del gallismo siciliano del provincialismo fatto di chiacchiere sulle donne più che di vere conquiste e da questo lavoro di Brancati nel 1967 Alberto Lattuada ricavò un film e la Rai ricavò uno sceneggiato dieci anni dopo con Domenico Modugno come protagonista resta da dire soltanto dall'analisi del filosofo Sören Kierkegaard sul Don Giovanni di Mozart nella quale analisi viene fatta la distinzione tra amore sensuale che è quello rappresentato appunto da Don Giovanni che è la somma di tanti momenti diversi ma che costituiscono un unico momento che si ripeterà all'infinito e dunque un modo di far sparire il tempo che in qualche maniera ammette una concretizzazione vera rispetto invece all'amore psichico che è tormentato dal dubbio sappiamo che il cuore della filosofia di Kierkegaard è questa sorta di tragedia della scelta tra alternative possibili che vuol dire sempre scarto di alcune vie rispetto a quella che invece abbiamo scelto per la nostra esistenza ritroveremo ancora alcuni temi quando parleremo del mito di Fausto loto di febbraio di fausto della scelta per la nostra iniziamo insieme rispetto alla scelta di fausto di fausto di fausto per la nostra di fausto per la nostra